E adesso tocca a me la palla, quella più importante, quella del pubblico. Chiaramente voi siete curiosi di sapere cosa avete votato. E' uno che l'anno scorso ha dimostrato tanto e quest'anno vi ha ancora entusiasmato. E' il Vieti del Luscio Ministro! E' uno che l'anno scorso ha dimostrato tanto e quest'anno vi ha ancora entusiasmato. E' uno che l'anno scorso ha dimostrato tanto e quest'anno vi ha ancora entusiasmato. E' uno che l'anno scorso ha dimostrato tanto e quest'anno vi ha ancora entusiasmato. Grazie. 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 Grazie.